Sono del leone E qual è la caratteristica delle ragazze nate sotto il segno del leone? La caratteristica, le caratteristiche diciamo, è molto la sincerità Sono sincere e spudorate quasi, perché dicono tutto quello che pensano Con l'amicizia, sono molto amiche, molto così, danno tutto E poi hanno la mania di grandezza Cioè loro vogliono tutte le cose in grande Vogliono le grandi case, le grandi macchine, i grandi teatri, i grandi tutto E te l'ho detto che non è da credere a questi segni sulle case Non c'è da credere Ma Pippo, per la corona Prendi qui